Allora, quello che lei dice a proposito di Marte e della Luna è la verità, è il nostro immediato futuro. Il nostro immediato futuro, quello che vedrete tutti voi, sarà l'equipaggio su Marte, perché oramai di veicoli automatici ne abbiamo mandati troppi, io dico sempre che bisogna mettere il semaforo perché oramai si scontrano l'uno con l'altro. Allora, l'equipaggio su Marte è la vita sulla Luna, organizzarci in maniera tale da poter vivere sulla Luna e questo lo faremo. Allora, questo come dico è il futuro. Come si fa a convincere le persone che il vaccino è fondamentale? È assolutamente una cosa che io ricordo quando ho sentito certi asini che dicevano, ah non facciamo vaccinare perché ho paura per i miei figli, Somaro devi avere paura per i figli degli altri perché vaccinarsi vuol dire anche un effetto di difesa nei confronti degli altri, questo è fondamentale. Quindi noi di vaccino dobbiamo assolutamente farlo. Anzi, quello che io dico è questo, questa grande pestilenza, come la chiamo io, ci ha trovato impreparati. Allora, noi dovremmo organizzarci in maniera tale che queste grandi calamità, come appunto questa che stiamo vivendo, ci trovino pronti. Ci trovino pronti, per esempio, è chiaro che una calamità investe gli ospedali. Noi dobbiamo organizzarci in maniera tale che gli ospedali siano in numero maggiore, siano più efficienti, quel tanto che riescono e che siano molto più distribuiti. Ma alla stessa maniera, siccome abbiamo capito che ci sono degli strumenti come il distanziamento, le mascherine, che aiutano a ridurre i danni di questa pandemia, ecco, dobbiamo prepararci a questa mentalità che mi si permetta di dire è una mentalità femminile. Io parlo sempre bene delle donne perché sono una femminista antesignana. Le donne sono abituate al sacrificio. Noi siamo stati abituati al sacrificio da sempre, proprio perché abbiamo sofferto e abbiamo patito. Benissimo, questa capacità di sacrificarci in questo momento viene buona con la pandemia, ma potrebbe essere buona per il futuro. Dobbiamo capire che il sacrificio non è una forma di masochismo. Il sacrificio è dare importanza alle cose importanti e attivarsi perché le cose importanti siano un beneficio per tutti.